I vandali non conoscono stagione e riescono a colpire anche sotto le festività natalizie. Nella notte, infatti, è stata vandalizzata la casetta di Babbo Natale a San Gataldo, sita di innanzi il palazzo comunale. Hanno portato via alcuni fari, addobbi e rotto i vetri delle finestrelle. Indignazione da parte della giunta comunale san Gataldese, che subito si è rimessa all'opera per riparare il danno e l'atto vandalico. Stamattina al nostro risveglio abbiamo avuto un brutto risveglio. Abbiamo trovato la casetta di Babbo Natale, che avevamo allestito nei giorni scorsi, aperta, vandalizzata, e qualcuno si è introdotto per rubare ciò che era al proprio interno. Dico la verità, siamo rimasti abbastanza sconvolti. Sconvolti perché non pensavamo che si potesse arrivare a tanto. Allora, nei confronti di chi lo ha fatto, nei confronti dei delinquenti che sono entrati stamattina e hanno vandalizzato la nostra casetta, faccio presente che ovviamente nelle prossime ore noi procederemo con le dovute denunce e con i dovuti esposti. Stiamo controllando le telecamere di accesso al Corso Sicilia davanti al Comune di San Cataldo. È chiaro che l'amarezza di questo evento oggi non ci lascia in qualche maniera sereni, ma in ogni caso non ci vogliamo fermare a questo, non ci possiamo fermare a questo stato di inciviltà e di poco senso civico, perché il nostro interesse e la nostra passione per questa città va oltre. Abbiamo deciso di fare tutto un altro Natale quest'anno, l'abbiamo promesso e ci stiamo mettendo in atto tutte le nostre forze affinché questo possa essere realizzato. Per questo motivo, proprio oggi, abbiamo ricomprato tutto il materiale che è stato rubato per allestire di nuovo la nostra casetta che stasera sarà completa e che tornerà a vivere proprio in occasione degli eventi che saranno nei giorni a seguire tra la casetta di Babbo Natale, Babbo Natale Slitta, per garantire proprio ai nostri bambini e alle famiglie di potersi godere questo Natale che San Cataldo merita nel migliore dei modi.